Salve ragazze, questa volta parliamo del nuovo mascara di Avon Infinitize sono 10 ml di prodotto 3 mesi dall'apertura questa è la colorazione nera ma c'è anche una colorazione marrone e mi pare che adesso sia in promozione a 7,95€ allora che dire, innanzitutto io ho già fatto una recensione sul blog quindi potete vedere la mia prima settimana di utilizzo mentre dopo mi sono ricreduta allora, questo è lo scovolino vedete? è curvo, quindi incurva tantissimo le ciglia ed è a setole molto molto fitte quindi riesce a prendere anche tutte le ciglia ha queste 3 bombature che, vedete, 1, 2 e 3 ricordano molto una mascara della Givenchy che è decisamente più costoso che devo dire che effettivamente raggiungono qualsiasi formato di ciglia e è anche abbastanza allungante io non so se forse ha anche qualche piccola extension diciamo così, al suo interno, nelle fibre delle fibre, insomma il problema di questo mascara qual è stato nel mio caso a parte, vabbè, non volumizza ma io non ne ho bisogno quindi poco male però per chi ne avesse bisogno sicuramente questo non è il mascara adatto per il resto, dicevo, mi sono trovata benissimo un prodotto molto 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 buono ma a me è successo che si è tolto un giorno, andando ad aprirlo semplicemente, si è tolto tutta questa parte qui e che è successo? il prodotto è completamente strabordato quindi ho tirato fuori lo scovolino il prodotto era ammassato qui ma anche completamente nei bordi e non c'è stato verso né di rimetterlo dentro né di utilizzarlo né in quel momento ma soprattutto dopo perché se voi vedete guardate un po' il mascara è completamente secco allora io non amo i mascara molto liquidi mi piacciono quelli un pochino più corposi ma questo si è tramutato ovviamente da un giorno all'altro io penso che o si abbia preso aria successivamente all'incidente diciamo così io comunque ho fatto le foto di quello che è successo cioè andando ad aprire un mascara non esiste che viene meno tutto il prodotto io adesso ho un mascara che ho usato una settimana neanche non posso più utilizzarlo con 10 ml di prodotto comunque quindi io le foto le ho fatte le metterò sicuramente sul blog se riesco anche sul video ma le manderò ad Avon e vi farò sapere che cosa mi dice voi fatemi sapere se invece è successo soltanto a me quindi è difettato la confezione o seppure invece anche voi avete avuto questi problemi quindi è un problema un pochino più comune ciao ragazze